Il più grande confronto possibile è quello che ci può dare una spiegazione statistica a cosa potrebbe succedere dopo l'approvazione dell'ETF su Bitcoin, una narrativa che in questi giorni sta esplodendo ovunque e dal mese di ottobre guardate che risultati ha fatto Bitcoin nell'ultimo mese, più 30%, una letterale esplosione al rialzo, anche queste sono tutte candele daily, addirittura con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele daily verdi di fila proprio sulla idea che l'approvazione dell'ETF ormai sia quasi cosa fatta e poi soprattutto un'altra informazione molto importante cioè questo dato, quando è uscito il ticker che riguarda l'etf di Bitcoin di BlackRock che porterà il ticker IBTC e questo ticker ha fatto esplodere l'idea che ormai fossimo indirittura d'arrivo per la presentazione dell'ETF insieme anche all'informazione stratosfericamente importante relativa al seeding in quanto BlackRock avrebbe indicato il mese di ottobre come mese possibile di inizio del seeding e questo costa significa il seeding, quali sono le fasi dell'approvazione dell'ETF, come possiamo utilizzare tutte queste informazioni e confrontarle con un dato storico inequivocabile che è già avvenuto e che può darci un'indicazione su tutto quello che potrebbe effettivamente succedere nei prossimi mesi su Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con la mia moneta Bitcoin, quanto più che mai in questo momento importantissima, ve lo avevo detto negli ultimi giorni, ve lo avevo detto nella live di Binance, ve lo avevo detto nelle altre live che abbiamo fatto anche sui altri canali, che Bitcoin questa aveva, era una fase estremamente importante ed era anche una fase che tendenzialmente poteva essere girata anche al sfondo rialzista. È finita qui, non è finita qui, nel video di lunedì vi ho dato una spiegazione tecnico legata all'anesi ciclica del fatto che teoricamente questa fase non è per niente finita qui e potrebbe continuare ancora, ma ne parliamo la prossima settimana quando mettiamo alle spalle questa settimana perché ci sono dei dati anche dal punto di vista ciclico che sono fondamentali. Oggi invece andiamo a fare questo super video, vi ho preparato anche delle slide per quanto riguarda la fase dell'ETF di Bitcoin, tutto quello che è successo e soprattutto il vero confronto statistico. Il video più importante di questi mesi potrebbe essere il video che dichiara tutto quello che andremo a vedere nei prossimi mesi su Bitcoin, un perché statistico, un confronto statistico ed è importantissimo andare a farlo. Partiamo subito con le slide ragazzi, ETF è il più grande confronto possibile, ETF di Bitcoin, quello che sappiamo. Intanto, forte pressione per l'approvazione dell'ETF di Bitcoin a replica fisica da parte di BlackRock e di anche altre società relative alla questione della SEC e della regolamentazione. Perché? La regolamentazione è importante perché all'interno della struttura, della procedura per la presentazione e l'approvazione di un ETF, la regolamentazione è una di quelle fasi importantissime attraverso la quale poi si vanno a generare altre fasi successive come ad esempio il seeding. Attenzione, spoilerone, il seeding è una fase successiva alla regolamentazione. E allora perché BlackRock vorrebbe fare questo seeding o lo sta già facendo ad ottobre? È vero, non è vero? Insomma, questo andrebbe poi approfondito. Le scadenze di gennaio probabilmente non saranno rispettate. Anche questa cosa noi sappiamo ragazzi perché è un dato scontato. Se arriviamo a gennaio probabilmente la SEC non approva l'ETF, se lo approva lo approva prima probabilmente perché è un dato scontato. Quindi questo concettualmente significa anche che tutti i dati scontati dal mercato non hanno un impatto sul mercato. Anzi ci potrebbe essere il famoso sell on news all'approvazione dell'ETF perché potrebbe essere in effetti scontata la notizia. D'altronde anche in quelle live dove appunto in giro un po' per i vari canali ragazzi vi avevo spiegato, avevo detto un po' a tutti che l'idea che dall'approvazione dell'ETF derivasse un boom stratosferico era sbagliata. Ma che potesse derivare un boom del 20-30% era più che corretta. Già l'abbiamo visto però questa fase di boom. Potremmo avere altre fasi di alziste ma quello che noi dobbiamo comprendere e che faremo in questo video è quello che cambia nel medio-lungo periodo per Bitcoin con una cosa del genere. Non nel brevissimo periodo perché dopo l'approvazione se avverrà diciamo nei prossimi settimane ci sarà chiaramente un ritorno alla normalità. Ma il medio-lungo periodo cambia ragazzi, cambia radicalmente e lo vediamo in questo video. Molto importante questa cosa. Quindi le scadenze di gennaio secondo me verranno anticipate, BlackRock ha già iniziato il seeding. Allora questa è un'informazione che da un po' di giorni sta girando su Twitter perché ne ha parlato un'analista molto importante di Bloomberg. Ancora una volta quindi è stato dato il lato alla news, fake news poi di Cointelegraph ma in realtà tanto fake forse non era. Cioè era un'idea di fondo, sembrerebbe un po' che tante cose ci sono messe in circolo. Questo seeding che cos'è ragazzi? Allora ne parliamo tra poco quando vi spiego tutta la procedura di approvazione dell'ETF ma il seeding è importante perché agisce sulla domanda del sottostante l'ETF, in questo caso Bitcoin, appunto l'asset. E agisce in maniera sostanziale ragazzi quindi è ovvio che ancora non siamo andati probabilmente nella fase di acquisto materiale però la creazione del seeding è importante in quanto prelude quella fase ragazzi. Quindi ovviamente il mercato poi anticipa. Allora le fasi di lancio di un ETF parliamone perché così andiamo a comprendere come si lancia un ETF, che quali fasi vanno strutturate, poi andiamo a vedere anche i vantaggi del lancio di un ETF e poi la questione del super confronto. Esiste un confronto storico che possiamo fare che ci dà una idea di quello che potrebbe effettivamente succedere. Esiste questa cosa ed è anche molto entusiasmante ve lo dico ragazzi. Allora prima fase, progettazione, definire la struttura di un ETF. Definire la struttura di un ETF significa anche inclusi l'indice, l'asset che seguirà, quindi quale sarà la replica che andrà a utilizzare, se sarà la replica fisica o medicina, la metodologia appunto e le strategie di investimento. Quindi sostanzialmente la progettazione è il pacchetto, quindi la forma che prenderà l'ETF. Successivamente alla progettazione abbiamo la fase della regolamentazione ragazzi e qui già iniziamo a porre i primi problemi. Allora approvazione da parte delle autorità relative appunto alla SEC in questo caso. La regolamentazione prima che l'ETF possa essere lanciato deve appunto ottenere un'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione nel paese dove sarà quotato. In questo caso negli Stati Uniti è la SEC. E questo processo può richiedere appunto tanto tanto tempo ed è quello a cui stiamo assistendo già da un po', no? Questo cane che si morde la coda e questi giri delle questioni. Ma attenzione perché teoricamente la regolamentazione arriverebbe prima del SID ragazzi. Il SID teoricamente avviene dopo perché nel momento in cui io vado a raccogliere i capitali per acquistare le prime, i primi sottostanti, i primi asset che devono entrare nel mio ETF, teoricamente devo avere l'approvazione. Altrimenti cosa succede? Succede che io andrò a comprare quel ETF che magari poi non sarà approvato e nel momento in cui non viene approvato io cosa me ne faccio di quell'ETF, di quell'asset sottostanti d'ETF? Non posso andare ad utilizzarli, quindi a quel punto diventa strarischioso possedere le quote dell'ETF. Quindi già questo è un anello mancante, ci dice già una cosa molto importante. Se in effetti BlackRock ha iniziato il seeding dell'ETF di Bitcoin vuol dire che in pratica la regolamentazione, quindi l'approvazione della SEC è quasi scontata ragazzi, praticamente è scontata. Cioè gli sarà stata data già l'informazione a BlackRock che l'approvazione avverrà. E questo è il discorso. Comunque parliamo del seeding. Il seeding si fa una volta appunto ottenuto l'approvazione. In questo caso sembrerebbe che lo stiano facendo prima. Che cos'è il seeding di Bitcoin? Una volta ottenuto l'approvazione la società che collaborano tra di loro, appunto i seed investor, vanno a fornire il capitale. Il capitale che viene fornito deve essere sufficiente per acquistare i primi sottostanti che vanno a definire le quote dell'ETF. Quindi in pratica i primi Bitcoin andranno messi in pancia all'ETF e quindi l'ETF viene quotato. Può essere quotato in base alla valorizzazione delle quote possedute. E si dà quindi la possibilità in questo caso poi agli utenti e agli investitori di comprare le quote dell'ETF. Quindi per comprare le quote dell'ETF bisogna fare il seeding. Successivamente al seeding avviene l'acquisto dell'asset con il capitale seed, cioè quello appunto raccolto durante il seeding. L'ETF quindi acquista gli asset che intende replicare. Ora ragazzi sono collegate queste due fasi. Il seeding e l'acquisto dell'asset sono collegati. Io non raccolgo il capitale se poi non lo acquisto. Quindi in questo caso è collegata anche alla prima fase, quella della regolamentazione. Quindi abbiamo regolamentazione teoricamente data per scontata, raccolgo il capitale con il seeding, acquisto l'asset per fare il mio ETF, per replica fisica. Una volta che io vado ad acquistare l'asset ragazzi succede questo, cioè c'è una variazione della domanda in un asset. Quindi l'equilibrio di prezzo che si va a formare tra domanda ed offerta. Prendo i miei due Batman ragazzi, quello nuovo e quello vecchio. Allora l'equilibrio che si va a formare offerta e domanda che è formato al centro dal prezzo che oscilla subisce uno sbilanciamento. Perché? Perché la domanda sale, salendo la domanda, l'offerta restando sempre la stessa nel caso di Bitcoin. Sappiamo che così deve salire anche il prezzo per riequilibrare la questione. Quindi fare in modo che riscenda tutto e si riporti in equilibrio. Quindi sostanzialmente l'incremento del prezzo è una consecuzio palese di questo momento. Poi di quanto è un altro discorso? Dipende dalla capitalizzazione dell'asset, dipende da quanto è il seed raccolto, quanto è il capitale per il primo lancio dell'ETF, quanto stanno lanciando, lanciano un ETF da un miliardo, lanciano un ETF da 10 miliardi. Cambia radicalmente tutto su un asset come Bitcoin che ha una market cap abbastanza bassa, intorno ai 600 miliardi. Quindi è ovvio che se io lancio 10 miliardi è più del 10% dell'intera quota, diciamo, capitalizzazione di Bitcoin. Scusate, è più del 1% della quota del capitale di Bitcoin. Quindi sostanzialmente vado a implementare una leva differente. Quindi cambia la questione della domanda. Ma già da qui avete anche un'idea che comunque la domanda andrà analizzata successivamente all'approvazione, infatti lo faremo. Cambia? Sì, ragazzi. Ma poi cambia quanto? Questo è quello che ci interessa andare poi a ragionare in futuro. Però intanto questa cosa qui il mercato la sta scontando, andando appunto a ragionare sul fatto che se effettivamente le notizie trappelate ci riportano che il seeding di BlackRock sia iniziato, questo significa che in pratica la regolamentazione sarà approvata e soprattutto inizieranno tra poco gli acquisti reali di Bitcoin fatti probabilmente da Coinbase. Ultima fase per il lancio dell'ETF, quotazione in borsa, completato il seed dell'ETF può essere quotato in borsa e iniziare ad essere tradato. Una volta che viene tradato, questa questione legata al squilibrio di prezzo, domanda e offerta si conclude e a quel punto sarà importantissimo avere un altro dato, cioè la capitalizzazione dell'ETF in questione e soprattutto anche la provazione di quanti altri ETF che vorranno seguire BlackRock a replica fisica e quanto capitalizzerà e soprattutto quanto grande diventerà questo ETF, perché se diventa tanto grande allora l'impatto sulla domanda è più importante, se invece non ha successo, ma questo lo avevo già accenato su un altro video, l'impatto sulla domanda potrebbe essere estremamente limitato e lì insomma andremmo a vedere un po' anche l'atteggiamento del principio di Bitcoin. Andiamo a comprendere un'altra cosa prima di passare a appunto come vi dicevo l'unico grande confronto che possiamo fare perché questa cosa è già successa nella storia, è già successa e abbiamo dei dati che già sono visibili e di cosa è successo quando è stato quotato un ETF a replica fisica su una commodity, che cosa è accaduto e negli anni successivi perché è accaduto quello, quanto è impattato l'approvazione dell'ETF o no, andiamo a vedere questa cosa fra pochissimo ragazzi. I vantaggi dell'approvazione fisica di un ETF sono questo, aumento della domanda, quindi ve lo sto già dicendo, maggiore adoption per Bitcoin, se aumenta, se viene approvato l'ETF, viene lanciato l'ETF e ha successo l'ETF, ricordatevelo ragazzi, ha successo l'ETF, se l'ETF non ha successo, nessuno lo vuole, allora non avviene questa cosa, ma se ha successo ovviamente si mi stava infogando, se mi metto la crypto qui, va bene. Va bene, a parte l'aumento della domanda, poi abbiamo maggiore liquidità, meno speculazioni, quindi c'è più liquidità, c'è più liquidità per quanto riguarda quell'asset ed è una liquidità che è diversificata, è anche data in mano a, è vero, un strumento, però lo strumento poi viene distribuito a tanti investitori, questo significa che teoricamente il possesso di Bitcoin viene un po' decentralizzato, annaggia lì va BlackRock per decentralizzare il possesso di Bitcoin, va bene. Comunque questo avviene quando in pratica noi andiamo ad avere uno strumento che detiene, ovviamente è lo strumento che detiene l'ETF di Bitcoin, quindi è centralizzato, però le repliche vengono date a tanti investitori, quindi teoricamente non è che loro possono manipolare il prezzo perché sono una replica passiva, quindi in teoria diciamo è un meccanismo anche questo di derivazione, quindi scherzi a parte diciamo non è una decentralizzazione reale, però in effetti avviene un po' da un punto di vista di investitori che appunto diventano migliaia, magari milioni di investitori, anche se lo strumento è uno, quindi è tutto accorpato all'interno di questa unica struttura. Più stabilità del prezzo, il prezzo diventa estremamente più stabile teoricamente proprio grazie alla liquidità, questi sono altri vantaggi che arrivano tutti dalla produzione dell'ETF, quindi anche la stabilità del prezzo andrà verificata ragazzi, perché potrebbe essere anche una cosa negativa perché una volta che avviene tutta questa fanfara, se effettivamente avrà un grande successo probabilmente abituatevi a vedere un bitcoin che non agisce più con questi impulsi che abbiamo visto oggi. Poi ci sono effetti secondari nel mercato delle cripto che sono gli effetti di un'approvazione dell'ETF che si hanno anche sul mercato derivato di bitcoin, cioè le criptovalute, Ethereum e Company, questo è tutto, ho un altro argomento, se no non ne usciamo più e l'affrontiamo. Come si comporterà il prezzo di bitcoin? Andiamo a comprendere quello che è l'argomento centrale di questo video, una volta fatte tutte le premesse che erano impossibili da non fare perché sono utilissime, confronto con il prezzo dell'oro dopo l'approvazione dell'ETF fisico. L'oro nel 2004 ha subito l'approvazione dopo miriade di richieste dell'ETF fisico del gold e da lì noi abbiamo un confronto oggettivo diretto con un competitor che sulla carta è molto simile a bitcoin. Primo è una commodity e bitcoin è sempre più considerato una commodity da un punto di vista di asset. 2. Incide come riserva di valore e bitcoin ha questa funzione, volente o nolente, l'ha avuta o non l'ha avuta, poi vediamo nel corso del tempo, è troppo piccolo al momento, però questa è la sua intenzione, è molto simile, ha più fruibilità dell'oro perché è in grado di circolare come moneta, l'oro non è in grado di circolare come moneta, però teoricamente ha molte vicinanze con l'oro. Quindi l'approvazione, quando è stato approvato l'ETF del gold, il gold stesso ha avuto un atteggiamento storico che è abbastanza rilevante ragazzi, vabbè. E questo atteggiamento storico ci dà un dato statistico di quello che potrebbe in effetti accadere a bitcoin se ha successo, perché l'oro aveva già successo ragazzi, era già una commodity ampiamente utilizzata, storicità è incredibile, la più anziana che c'è. Bitcoin se ha successo o meno, noi non lo sappiamo, questa è veramente la chiave di volta che dovremmo vedere, però se ha successo l'atteggiamento potrebbe essere molto, molto, molto simile a quello già visto appunto nell'ETF del gold. Andiamo a controllare la questione. Allora l'ETF del gold ragazzi è stato approvato, questo è il GLD. Il GLD tra le altre cose è... Niente, volevo prendervi la scheda, non la trovo. Vabbè, il GLD ragazzi è l'ETF di SPDR, quindi SPDR Gold Share, ed è, tra le altre cose, è stato il primo ETF approvato e ad oggi è uno degli ETF più grandi dell'oro. Tant'è vero che si usa per investimenti anche da trading, quindi si può fare trading sull'ETF del GLD come si fa sul future dell'oro direttamente, un po' come lo SPY, l'ETF dell'SP500 che viene utilizzato per fare trading direttamente lì e non utilizzare il future dell'SP500, ve ne dico, ce ne sono anche altri, no? Ok, il QQQ per quanto riguarda NASDAQ100 eccetera. Allora, qui l'approvazione è avvenuta quando, ragazzi, ve lo faccio vedere, l'approvazione è avvenuta al lancio di questo ETF, cioè in questa zona qui, nel 2004. Nel 2004 l'ETF dell'oro è stato lanciato, c'è stata una prima fase di Sell on News che è durata un pochetto con un meno 10%, attenzione a pensare che le proporzioni percentuali del gold siano simili a quelle di Bitcoin eventualmente perché non sarà così, il gold è estremamente differente come atteggiamento, Bitcoin è una tecnologia a molta più volatilità, però è l'andamento su giù che potrebbe essere interessante. Qui abbiamo avuto una struttura di ribasso, questi sono mesi, fino tendenzialmente al febbraio del 2005, quindi uno, due e tre mesi di down, poi una barra di congestione fino al giugno del 2005, quindi comunque, vedete ragazzi, c'è stata una Sell on News, no? Se potessimo, dovremmo dire così. Poi c'è la classica figura degli amanti di analisi tecnica, il breakout del livello di massimo, dell'avvenuto massimo di questa ETF è la strutturazione appunto di un trend incredibile per quanto riguarda l'oro. Il più importante trend dell'oro della storia, ragazzi, ok? Il più importante trend dell'oro della storia è stato spinto solo dalla professione dell'ETF? Assolutamente no, adesso vi dico anche da cosa, però l'ETF ha avuto un impatto su queste cose ed è innegabile questa cosa qui, ragazzi. Quindi noi abbiamo visto l'oro poi incrementare in pratica fino ai suoi massimi storici, massimi che attualmente ancora tengono in pratica il gold al di sotto. Quindi in pratica c'è stato da questa zona di minimo a questo massimo un'impennata del 350% per quanto riguarda l'oro fino ad agosto del 2011. Da lì in poi l'oro non si è mosso più, quindi sono 11 anni che l'oro va su e giù, fa il cammello e basta, non ha grandi trend. È iniziato un trend imponente dal 2015 che però ancora non ha rotto i massimi. Cosa succede a un eventuale breakout consistente di questa zona per quanto riguarda l'oro? Agli analisti tecnici la risposta è già scolpita, no? Quindi anche questo è un asset che potrebbe essere interessante. Attenzione se non lo fai invece può anche reversare, però è difficile che loro facciano una cosa del genere. Allora, qual è l'idea ragazzi? Allora intanto ci sono due parti e sono fondamentali. Uno è la fase che secondo me è la vera fase che dobbiamo andare a prendere in considerazione, quella fino a marzo del 2008. Da marzo del 2008 in poi questa fase la dovremmo tenere a mente, ma secondo me non ha impatto con l'ETF. Perché? Perché da qui è iniziata la grande crisi del fallimento Lehman e dei subprime, quindi da qui la successiva gamba rialzista dell'oro fa parte più della quantitative easing e delle nuove politiche di emissione di liquidità da parte delle banche centrali e in più c'era anche una questione legata al fatto che molte economie e paesi emergenti hanno iniziato a comprare l'oro e quindi a farne cassa per averlo come benerifugio e la Cina per esempio, la Cina è stata appomentato tutto questo rialzo della campana dell'oro. Però, 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 questa prima fase, questa prima fase qui potrebbe essere una fase ampiamente dipendente dalla questione dell'ETF, 140% dai 64% ai 140% per quanto riguarda una commodity come l'oro che è assolutamente a bassissima volatilità rispetto alle altre. Allora, questo è quello che potremmo aspettarci su Bitcoin, non in termini di percentuale ma in termini di estensione, cioè di rialzo, un trend del genere. Secondo me sì, secondo me l'approvazione di un ETF di Bitcoin, se l'ETF avrà successo, ve lo ribadisco e scrivo, se l'ETF avrà successo potrebbe causare un trend duraturo per quanto riguarda Bitcoin, tutto rialzista, che dovrebbe svilupparsi non nei primi mesi dell'approvazione perché ci sarà magari il sell on news, ma successivamente dopo una fase di riposo, dopo l'approvazione, dopo il boom dell'approvazione, poi il sell on news, fase di riposo, da lì potrebbe in effetti verificarsi se, potremmo verificare se l'ETF di Bitcoin avrà successo o meno e a quel punto andare ad agire di conseguenza. Bitcoin stesso potrebbe agire di conseguenza iniziando una fase di pump notevole e di incremento del prezzo collegato anche all'andamento e all'adoption del ETF stesso. Questo è quello che potremmo vedere, questo è il grande confronto ragazzi, si fa, tenete solo di queste informazioni perché se si svilupperanno così come sono e da metà anno del 2024, ho già fatto un video stra importante sull'anno 2024, andatelo a vedere e non dimentichiamoci un'altra cosa. Nel 2024, oltre a questa cosa sulla domanda di Bitcoin, ci sarà l'albing e quindi non solo uno shock di domande è possibile, ma anche un mini shock di offerta e fate un po' voi i calcoli. Se da una parte la domanda aumenta e l'offerta addirittura si riduce, che succede? Ci vediamo nel prossimo video!